il ministero della salute ha ritirato negli scorsi giorni una crema di nocciole si tratta della crema nut emotion a marchio come mi vuoi nut emotion vendute in vasetti da 330 grammi il ritiro è dovuto alla possibile presenza dell'allergene arachide non dichiarato in etichetta il lotto oggetto del richiamo è quello contrassegnato con il numero L22P013653 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 24 agosto 2023 la crema in questione inoltre è stata prodotta dall'azienda Soccado SRL nello stabilimento di via Spagna 20 Grazie a tutti! Grazie a tutti!